E' una soddisfazione immensa, pensando da dove siamo partiti, l'anno scorso il Mantua era retrocesso in Serie D, siamo partiti praticamente da zero e nel giro di un anno ci troviamo qua a festeggiare una Serie B, sicuramente non aspettata, ma per tutto il lavoro che è stato fatto, sicuramente è stata accolta con ancora più giochi. Da parte nostra e da parte di tutti i tifosi mantovani nello specifico.